Ciao, ma cosa ci fai combinata così? Ma perché non si vede? Mi sono vestita da nonna. Sì, avevo capito, ma perché? Halloween è passato e carnevale deve ancora venire. Ma devo proprio spiegarti tutto. Se mi vesto da nonna e prendo un'aspirina, è come usare un rimedio della nonna. No? Ciao, amici. Oggi, come promesso, vediamo i tre rimedi della nonna più assurdi contro i malanni di stagione, ma che funzionano veramente. Ricordo sempre un mio compagno di università, quando studiavo a Venezia. Mi diceva, mia nonna mi mette un piattino in testa con un po' d'acqua, poi si siede davanti a me, recita un rosario e il mal di testa sparisce. Secondo me gli dava un'aspirina. Vedi che avevo ragione. Sara, a me ha sempre stupito questa storia. Comunque, i rimedi della nonna funzionano. In tanti anni di esperienza, come naturopata, me ne hanno raccontate di tutti i colori. Dopotutto, quando non c'era tutta l'abbondanza di farmaci e parafarmaci come abbiamo oggi, ma come facevano i nostri nonni a curarsi e a stare bene? Oggi, allora, vi faccio vedere i tre rimedi della nonna più strani contro raffreddore, influenza e febbre che funzionano perché li ho visti personalmente all'opera. Roba da non crederci. Sì, e se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma chi lo avrebbe mai detto? Sì, la natura è potente se la usiamo come alleata della salute. E per sapere come fare, basta seguire tutti i miei video. Per farlo, iscrivetevi al canale. È facile, basta un click così. E attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Ora, condividete questo video con i vostri amici, sui vostri social. Chissà che questi rimedi non aiutino più di una persona. Siate anche voi portatori sani di salute, come me. Salute naturale, ovviamente. Nel sondaggio che trovate nella scheda cliccabile, qui in alto, votate il vostro rimedio preferito. Ah, Squaletto dice che per fargli passare la febbre, suo nonno gli dava l'estratto di cavolo di mare. Nei commenti scrivetemi i rimedi che usavano le vostre nonne e i vostri nonni che vi hanno fatto usare. Anche a voi, sono curiosa. Vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!